Restiamo a casa, imitiamo il contagio dal coronavirus e impietando frequentare anche parchi, penete e la spiaggia. Le forze di polizia fanno controlli rigorosi. Affrontiamo questo momento con responsabilità. Se rispetti i diritti, rispetti la tua salute e la salute di tutti. Anche se non lo vedi, il virus uccide. Contattiamo tutti insieme. Sono Monica, resta chiusa. Il contagio dal coronavirus è impietato frequentare anche parchi, penete e la spiaggia. Le forze di polizia fanno controlli rigorosi. Affrontiamo questo momento con responsabilità. Se rispetti i diritti, rispetti la tua salute e la salute di tutti.